allora ragazzi se volete salutate pure youtube così siete a posto allora come si fa a linkare l'account allora da dentro il gioco dovete andare nel menu opzioni e praticamente digitare e praticamente cliccare qui dove c'è scritto link data quindi cliccate e praticamente vi aprirà la pagina dello square enix bridge una volta fatto questo leggete tutti i termini eccetera eccetera e fate accetta accetta termini dopodiché premete il tasto google c'è ok è una volta fatto google praticamente vi farà apparire oscurato ovviamente vabbè sì che tanto alla fine sono nomi fittizi quindi non me ne frega nulla anzi c'è solo il mio account però vabbè niente di che e mettete utilizza se volete utilizzare la mail con cui state giocando utilizzate quella mail oppure fate utilizza un altro account poi fate aggiungi account una volta che vi farà appunto aggiunge account vi apparirà ovviamente il classico la classica roba di accedere con il vostro indirizzo gmail io ora ovviamente metterò i miei dati quindi di oscuro un secondo vediamo se mi accetto il mio account con cui ho fatto la pre registrazione americana perché mi ero fatto un account americano per per fare la registrazione sì oddio me l'accetta forse ovviamente mettete la mail mettete la password e io ora in questo momento ho sbagliato che non me la ricordo oddio qual era la password come password errada ma che non mi ricordo manco la mia password sai che tra poco ora mi dice troppi tentativi a meno che ho sbagliato la mail no in realtà è giusto allora qui sicuramente ci sarà stato un taglio perché non mi ricordavo la password quindi ho dovuto cambiare account quindi ora selezionate l'account poi con cui siete entrati e praticamente che cosa dovrete fare dovrete successivamente anche questo ve lo posso far vedere tanto non è un problema dovrete praticamente scegliere giorno mese anno perché è come se stesse creando un account se ovviamente non avete un account square enix se avete un account square enix potete tranquillamente collegarvi con con tutto quello la cioè potete già collegarvi col vostro account square enix ok quindi noi qua mettiamo vabbè qua posso mettere praticamente vabbè metto effettivamente l'11 settembre del 59 che è l'account di questo sarebbe la mail di mio padre quindi siccome a lui non serve più la utilizzo io è stato italia nome utente potete mettere guy o p o p o p lingua italiana ovviamente non cliccate qui per ricevere aggiornamenti e via news eccetera eccetera questa invece la dovete cliccare per forza e poi fate iscriviti una volta che avete fatto iscriviti praticamente vi apparirà la conferma di esservi registrati e quindi potete tornare al menu principale una volta tornati al menu principale potete chiudere questa finestra potete potete poter chiudere questa finestra e praticamente puoi sloggarvi se volete sloggarvi da ever crisis quindi potete tranquillamente andare su title screen uscire in questo caso quindi vi faccio vedere anche nell'eventualità magari abbiate trovato un account decente e poi lo volete praticamente magari tenere da parte nel caso vogliate rirrollare andate da qui fate reset game data per sloggarvi in teoria quindi per cancellare il vostro account infatti vedete cosa c'è scritto reset game data allows you to play the game from the start però you must have previously previous link data in order to reverse the reset process quindi se voi resettate i dati ora in questo caso io sto letteralmente resettando i dati ok quindi il gioco si è resettato ora in questo momento io se rientro in game posso rirrollare cioè ritorno praticamente all'inizio del gioco vi faccio vedere praticamente entrate e vi dirà vedete settare le performance a accettare tutti i termini di licenza eccetera eccetera mettere il vostro nome utente e collegarvi praticamente in gioco ora ora io devo necessariamente collegarmi faccio la prima multi ora mi uscirà tutto quello che sicuramente mi interessa ora 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 faccio sta multi e mi esce tutto praticamente ora guardate cosa cosa succede ecco qua e ora come potete vedere siamo praticamente all'inizio quindi la multi di nuovo quella iniziale proprio stiamo praticamente ricominciando da cavo neanche la guardo l'animazione vediamo cosa c'è ok non mi è uscito niente godo tanto dobbiamo quittare sta account una volta che comunque avete poi fatto tutto quello che vi interessa e magari in un modo o nell'altro volete recuperare l'account di prima ora appena mi darà la libertà di poterlo fare allora sbrigiamo ci facciamo si 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 fai tutto tutto a posto non vi preoccupate ok ma prendete tutto quello che si è tutto a posto ovviamente schippate tutto quello che volete schippare ok abbiamo finito ci siamo ok una volta che poi avete finito e volete ritornare all'account di prima vi basta tornare indietro fare title screen nuovamente quindi uscire praticamente dal gioco e per collegarvi al vostro account dovete premere il tasto opzioni in alto a destra e fare link data in modo tale da potervi praticamente collegare con il vostro account quindi qua praticamente vi ritornerà alla pagina square quindi voi praticamente entrerete all'interno della pagina square members che io ora ovviamente per motivi pratici devo oscurare anzi in questo caso ve lo posso far vedere ecco qua praticamente potete fare poi accedi con e fate ovviamente account google in questo caso selezionate il vostro account precedentemente salvato selezionate la mail mettete la vostra password ecco qua vedete una volta che voi avrete selezionato la vostra mail ecco qua vi appariranno i dati del vostro del vostro transfer quindi ovviamente cristalli comprati zero e poi quelli invece free quelli quelli gratis 430 che erano esattamente quelli che mi erano rimasti dopo la pull quindi cliccate con proceed to transfer e praticamente abbiamo trasferito il nostro salvataggio quindi ora possiamo ritornare al menu di gioco e rilogare con il nostro account quindi possiamo uscire da questa pagina ritorniamo su ever crisis loggiamo e praticamente ritorneremo con il vecchio account di prima quindi abbiamo la possibilità di praticamente scollegare collegare account magari per rollare o fare quello che vogliamo è esattamente come funziona sua per omnia vedete e siamo nuovamente con il vecchio account con cui praticamente stavamo giocando in live fine non è cambiato completamente niente infatti se io ora vado sul player info vedete youtube twitch questo è il mio account che praticamente mi sto ottenendo per il momento quindi siamo letteralmente ritornati in possesso del nostro account quindi non c'è nient'altro questo era il metodo per linkare il vostro account per scollegarlo ricollegarlo e fare quello che volete spero al solito che questo video vi possa essere stato utile e mi raccomando seguitemi su youtube seguitemi su twitch seguitemi su instagram non seguitemi per strada perché stalking e poi basta bye bye